Buongiorno, siamo qua sulla Via Unità d'Italia insieme alla pattuglia dei Vigili della Polizia Municipale per controllare le macchine e i mezzi che passano per vedere se hanno le giuste motivazioni per spostarsi. Oltretutto, essendo questi giorni prepasquali, dove la gente, visto anche il bel tempo, magari ha voglia di spostarsi, la Polizia Municipale insieme alle altre Forze dell'Ordine stanno cercando di limitare gli spostamenti, soprattutto da quelle regioni rosse, dove purtroppo c'è questa situazione drammatica, scongiurare gli spostamenti, scongiurare gli arrivi e quindi limitare le possibilità di contagio. La presenza della pattuglia di stamattina e nei prossimi giorni sarà quella di controllare veramente chi arriva a Piedrasanta, cercare di limitare gli arrivi. Chi si sposta lo faccia veramente per necessità e non per fare degli spostamenti così fittizi. La Portuglia è qua presente come del resto, su tutto il resto del territorio. I controlli vanno avanti e a fine settimana ci saranno controlli particolari e mirati anche lungo la Renile, lungo il Viale Roma. Mi raccomando, rimaniamo a casa, restate a casa, spostatevi per lo stretto necessario e se vi spostate per necessità portatevi dietro sempre la mascherina e possibilmente anche un paio di guanti. Quindi mi raccomando, perché la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine poi fanno le sanzioni e tutto quello che è utile per mitigare questi spostamenti. Mi raccomando, di nuovo a casa, a casa con le vostre famiglie, ai vostri figli, ai vostri cari. Grazie.